E' il tempo che scandisce i sogni. Nella terra del sud, dove la tradizione regna sovrana, i sogni si realizzano passo dopo passo, con pazienza e dedizione. Sembrano incastonati come perle nella pietra viva della Puglia. Corriva già da bambino quel desiderio nei vicoli del paese, per incrociare la passione di famiglia e crescere forte e sano. Passeggiando insieme, mano nella mano, i valori si sono impressi con la gentilezza e con la determinazione di fare bene. Sulle colline della Murgia, quel sogno continua, lì dove gli allevamenti sono ancora naturali. San Michele di Bari è una cornice di emozioni imperdibili. Dal 1988 la macelleria Milano propone il gusto dei sapori d'un tempo. Perché fare bene è nei valori di famiglia da sempre. Lì nasce il sogno. Mille varianti di carni scelte e altrettante ricette. Dall'originale della nonna alle più moderne, soddisfano la vista e il palato dei buongostai del paese. La carne è frollata ad arte. I segreti della gastronomia semplice del territorio sono tutti lì. Nella vetrina di quel sogno bambino diventato finalmente realtà. Dalla macelleria all'aristobracceria alla tradizione, quel fornello pugliese è un capolavoro di vita. Arrosto, alla braccia o alla griglia. La carne tenera e saporita è sempre cotta a puntino, secondo le più antiche tradizioni contadine. Ancora oggi quell'esperienza unica si ripete nel forno di bottega storico col suo inconfondibile profumo d'eccellenza. Tutti i piatti sono creati con i migliori tagli di carne e con molte altre specialità pugliesi. E poi arricchiti di buon gusto. Perché lo stupore e i sorrisi appagati degli ospiti sono la prima vera soddisfazione. La tradizione da noi è diversa perché ha un sogno dentro. Il fornello pugliese, capolavoro di una vita. Grazie. Grazie. Grazie.